ciao è da tanto che aspetti l'autobus è un bel poco come tutti i giorni ogni giorno sembra la stessa storia? tutti i giorni mattina e sera qui non è cambiato proprio nulla quanto aspetti di solito? 20-25 minuti 20-25 minuti? a volte anche tre quarti d'ora e quindi più volte al giorno? sì io prendo l'autobus la mattina a luna alle 16 e alle 20 e con la tabella elettronica è cambiato qualcosa? proprio nulla anzi peggioriamo fin quando ci si tratta di 10 minuti passa un autobus ma dopo passa magari 10 minuti passa un'altra linea dove aveva segnalato quella quindi è proprio inutile questa tabella elettronica anche perché comunque in periferia non esiste proprio la tabella elettronica grazie a tutti